Adesso, grazie, per la serie gli ultimi saranno i primi, possiamo fare non soltanto il futuro ma anche il presente, adesso chiamiamo l'ospite d'onore che appunto è il poeta che poco fa avete ascoltato e che si chiama Joao Joseph Barcelo Ibaussà, io non so se l'ho detto bene grazie a tutti grazie a tutti è un bel modo per dirti benvenuto in Italia grazie